Volevo solo sistemi e cosa e me non torna da casa amici. Insieme. Provo ferro ti hai portato, insieme. Provo ferro. Insieme io ho sace che sei stato tu. Ho sace che sei stato tu. Chi è stato? Chi è stato a dare fuoco a casino? È stato un ordine. Tu sei stato, è un ordine nato che c'è merda con me. E' stato un ordine. Allo che si è andato? Bastante, all'alline. Grazie a tutti.